Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto, nuova puntata del Cartotto Educational. Dove ci troviamo? Forse avete sentito, altrimenti vi racconto, il rumore delle onde del mare. Ci troviamo dove? A Comacchio, la zona dei Lidi, una zona che consideriamo lagunare. Siamo in Romagna e qui c'è uno splendido museo del Delta del Po in cui troviamo una testimonianza, oserei dire rara, particolare, guardate, guardate, che attesta il ritrovamento, praticamente si può dire dell'intero carico di una nave romana mercantile, naufragata, le cronache raccontano, tra il 19 e il 12 avanti Cristo. La cosa incredibile è che il ritrovamento di questa intera nave, pensate un po', ora rimane la chiglia, risale al 1981, quindi un ritrovamento recente in verità, ritrovamento che si è manifestato perché la benna di una ruspa nel fare dei lavori ha in qualche maniera urtato proprio questo scaffo che è stato fatto riemergere, sono poi veramente state ricostruite e catalogate le ricchezze che il carico conteneva, ricchezze provenienti da diversi paesi. Abbiamo, possiamo vedere qui a lato, delle anfore ricostruite ma che mostrano i contenitori dell'epoca. Abbiamo ancora, seguite il mio dito, ed è veramente particolare, dei lì negotti, no ve lo dico prima, non sono d'oro ma di piombo. Poi ancora se osserviamo qui in basso dove ora la ripresa andrà a mostrare, ecco una ancora piuttosto voluminosa, state osservando in fondo alla ripresa quella che è la ricostruzione dello scafo della chiglia. Comacchio in questo caso, quindi questa parte, andava a quel tempo quasi a sottrarre a Venezia lo scettro di centro commerciale, poiché queste navi mercantili in effetti trasportavano oltre ai marinai, al personale civile militare, un sacco di materiali, dalle spezie fino appunto al piombo fino ad altro ancora. Un museo splendidamente allestito e ricostruito, sentite addirittura e vi racconto il rumore delle onde del mare, delle isole, quindi una sala che contiene la sabbia che ricalca la sabbia presente sul delta del Po, un invito dunque alla visita in questo splendido museo allestito in quello che pensate fino al 1970 è stato l'ospedale qui a Comacchio. Ebbene proseguiamo e proseguo, la esplorazione all'interno di queste sale ospitanti davvero vi posso dire uno dei carichi meglio catalogati e ricostruiti che attestano la vita e anche la storia degli antichi romani e dei loro traffici commerciali. A presto ancora un caro saluto a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto e ci vediamo per il prossimo Cartotto Education.